Dove sono? Cosa è questo posto? Devo uscire! La famosa frase con cui inizia Escape da Iwoki Ciao a tutti ragazzi, io sono Mineforce e benvenuti in questo nuovo video Ebbene sì, siamo tornati su Escape da Iwoki Come vedete la grafica è cambiata, ora è un po' stile Giochi Horror anni 90 Questa ovviamente è una demo, proviamola subito Non vedo l'ora, non è vero, di affrontare la Iwoki Cosa è qui? Una torcia, ovvio che la voglio In teoria dovrebbe essere più o meno la stessa storia, ma con qualche aggiunta Usciamo Lo stesso corridoio Oddio raga, mi vengono i brividi solo a pensare agli spaventi subiti in questa casa E ora stiamo rivivendo l'incubo, che bello Cos'è? Un pezzo di interruttore? Prendi Abbiamo sbloccato il passaggio, proprio come nel gioco originale Cos'è una statuetta? Vuoi prenderla? No? Vabbè non ti interessa Non so più come uscire Dov'è la porta? Ah, ok Ah, il fantastico mobiletto sotto il quale mi nascondevo Che bei ricordi Raga L'Ajuoki? Dov'è? Dov'è? Oh Ha rotto la porta raga Ma mica sente la mia voce come nel gioco originale? Spero di no Dove sei? È lui È lui? Ajuoki, Ajuoki Oddio raga, eccolo Ajuoki, Ajuoki, Ajuoki Ajuoki Ciao No Sì ma come faccio? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Ciao Come non detto non c'entro più Quindi io vado di là Ok? No Come non detto Ma perché fai queste cose? Stai andando di là Vai di là Quindi posso andare di là? Ah ma giusto perché mi sente Raga io non sono più abituato a questa cosa Se ricordo bene Ora c'è un tavolo No 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 Raga ma nel gioco originale scavalcava quel mobile Devo trovare un modo per raggiungere l'attico Raga non mi fa passare Non mi fa passare Raga secondo me si deve passare da qui per forza Magari cerchiamo di prendere una rincorsa Più lunga Vai Perfetto Ok Bastava prendere una rincorsa più lunga Oddio Perché ma perché Ho trovato un piede di porco Raga mi sa che con questo posso aprire l'attico Oh Oddio mi sono nascosto all'angolino del letto Vai Ma dov'è Oddio raga me la sono vista brutta Eccolo Ti prego Ti prego Oddio raga Grazie sviluppatore che hai messo il tavolino lì Cioè è pericoloso anche il protagonista Perché all'improvviso si mette a urlare Allora mi sa che la chiave che ho trovato è per questa porta Ma io ricordo anche Che nel gioco originale Dietro questa porta Spunto la Yuoki Il tuono Mi ha dato conferma Ora posso aprire l'attico Perfetto Oddio ecco la Yuoki Però perché non mi fa salire le scale Devo prendere la rincorsa anche per queste Oddio Oddio Vaffanculo ci sono caduto sopra Oddio Raga fortuna che si è salvato il checkpoint Ma come è iniziato da capo È un ragno Un ragno Oddio raga si stanno limonando Gesù Gesù Raga Dietro di me Sta dietro di me Sta dietro di me Aiuto Oddio Oddio raga Che c***o di inseguimento Allora mettiamoci subito sotto al tavolo Ok Corriamo Ok 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 No raga Il gioco non mi vuole far vincere Comunque ragazzi Questa era la demo di Escape da Yuoki The Make Non mi era mancato Per niente Questo gioco Comunque fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E un commento E iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Io vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao